Questo video riguarda i migliori 3 gazebo da giardino. Il vincitore della qualità è l'FP-TECH Gazebo da giardino. Gazebo da giardino tutto in alluminio misura 3x4. Nuovo modello con tende antizzanzare e copertura antivento con camino centrale. Le nostre sono tutte foto reali del prodotto che riceverete. Davvero elegante e robusto e con doppia colorazione beige e marrone e basi di ancoraggio. Caratteristiche tecniche Colore delle varie parti telaio grigio-antracite Telo beige con doppia balza marrone Zanzariere nere con rifiniture beige Teli antivento beige Strutture in alluminio verniciato a fuoco Pilastri da 80 mm fasce laterali da 65x28 mm supporti da 15x15 mm Telo in poliestere antipioggia interno da 380 grammi Camino antivento antizzanzare 4 zanzariere da 160 grammi A scorrimento su guida di alta qualità 4 teli antivento da 380 grammi A scorrimento su guida di alta qualità Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video L'alternativa è il iubeo gazebo Grazie al pratico sistema pop-up Questo gazebo pieghevole 3x3 impermeabile può essere montato e smontato in pochi minuti da 1 a 2 persone senza attrezzi Il tetto del gazebo pieghevole è realizzato in poliestere 210D ad alte prestazioni con rivestimento in PVC Che rende questo gazebo impermeabile e stabilizzato ai raggi UV Tre posizioni regolabili in altezza da 182 cm a 198 cm È sufficiente premere il pulsante su ciascuna gamba per regolare l'altezza del gazebo Il telaio a traliccio per impieghi gravosi è realizzato con tubi in metallo verniciato a polvere per resistenza alla ruggine e maggiore durata In CL 4 pannelli laterali, 2 pannelli laterali con finestra e 2 pannelli laterali con cerniera Pannelli laterali staccabili per soddisfare usi diversi e proteggere la tua privacy Il vincitore del premio è il TULUK gazebo da giardino Il gazebo pop-up di TULUK è facile da installare o chiudere Estrarre il telaio Dopo aver aperto il telaio e rivestire i due piani, è sufficiente installare la rete di fissaggio laterale con velcro Costruzione robusta con un telaio in acciaio resistente alla corrosione per una lunga durata e fornisce un forte supporto per l'intero gazebo La parte superiore del baldacchino impermeabile a due livelli e UPF 50 più con drenaggio Favorisce la ventilazione del vento e aumenta la stabilità in condizioni di vento Offre uno spazio all'ombra fresco, fresco e confortevole Questo gazebo per patio progettato con tenda da sole extra, telaio per gambe dritte 3x3m e copertura 3,3x3m nella parte superiore, fornisce 11 metri quadrati di copertura Gazebo da giardino TULUK dotato di borsa per il trasporto Oxford Facile da ripore e trasportare all'aperto Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento